Buonasera, sono Giorgio Ocello del Movimento 5 Stelle di Udine. Buonasera, sono il mio motorino del Movimento 5 Stelle di Udine. Oggi, il 26 ottobre, abbiamo fatto una riunione che ha toccato diversi temi. Il primo dei temi trattati è stato lo spettacolo di Eugenio Benedazzo, uno spettacolo del noto economista che si terrà il 25 novembre al Palazzo del Teatro per la Mostra di Udine, uno spettacolo che prevederà un biglietto a 7 euro. Il motivo appunto del fatto che ci sia un contributo a pagamento è il fatto che il Pozzuolo del Friuli, anzi per la precisazione il sindaco, l'assessore, mi pare l'ambiente, nonostante ci sono state persone molto vicine al movimento nostro nel momento in cui avevano avuto necessità magari di qualcosa, in questo momento ci hanno all'inizio garantito una sala, poi improvvisamente ce l'hanno toccata. Per cui abbiamo dovuto ripiegare e dovuto chiedere un contributo. Mancano ancora alcuni dettagli per questo spettacolo, nel senso che ci occorrerà trovare 4 persone ancora che abbiano un patentino ad alto rischio per l'antincendio, dovremo provare a testare tutto il materiale, per cui le casse, piuttosto che i microfoni, piuttosto che il videoproiettore. Stiamo vedendo se portare un servizio guardaroba e comunque stiamo andando avanti con la preparazione e anche con la stampa di alcune locandine da mettere nei locali, pagando la tassa e esponendoci con la trentina. Per i biglietti prossimamente? Per i biglietti prossimamente sapremo come fare. Il 19 novembre? Ah sì, il 19 novembre dovremo fare un banchetto appunto in centro Udine in cui promuoveremo e vendremo eventualmente i biglietti dello stesso spettacolo. Poi abbiamo parlato di altre due iniziative che ormai sono nello storico del Movimento 5 Stelle, cioè Milumino di Meno e Udine senza plastica. Milumino di Meno sarà il 16 febbraio appunto agganciata alla trasmissione Caterpillar di Radio 2. e stiamo sbagliando alcune location per ospitare questa serata musicale dove tra uno spettacolo e l'altro metteremo delle microconferenze appunto sull'utilizzo razionale delle energie e sulla riduzione degli sprechi, mentre a marzo faremo di nuovo Udine senza plastica dove stiamo coinvolgendo alcuni esercenti locali che vendono prodotti alla spina piuttosto che prodotti biologici o anche prodotti di seconda mano perché ci sono le 3 R, riutilizzo, riuso, anzi riuso, riutilizzo, riciclo quindi anche prodotti di seconda mano e quindi se c'è qualche negoziante che rientra in questa ottica di ecosostenibilità ci metta in contatto con noi che vediamo di organizzare assieme ad altre realtà nel comune. Comunque abbiamo già la visione di 3 esercenti. Oltretutto sempre nell'ottica di favorire questo tipo di economia vedremo di magari contattare i gas che sono i gruppi d'acquista solidale che sono quei gruppi di persone che acquistano una grande quantità di una merce specialmente di prodotti locali o prodotti italiani generalmente prodotti alimentari appunto facendo un grande ordine il prezzo diminuisce e si può acquistare a un prezzo inferiore anche perché vengono tagliate i guadagni degli intermediari magari vai direttamente alla fonte e ottiene un buon... e quindi vedremo anche di rilanciare un po' questi gas che ce ne sono un paio qui a Udine e vedremo di dargli un appoggio siccome questa sera una signora ci ha chiesto specificatamente di questa cosa ed è una cosa abbastamente rassente una notizia interessante è il fatto che diverse persone che nel territorio friulano nella provincia di Udine sono vicino al nostro movimento hanno indetto delle riunioni queste riunioni si sono tenute finora a Cervignano del Friuli e si sono tenute a Tricesimo e sono state sorprendentemente delle riunioni che hanno avuto un ottimo esito nel senso di partecipazione quindi la cosa ci fa ben sperare perché è possibile magari riuscire a creare diversi gruppi radicati nel territorio persone che parlino dei problemi della loro situazione che siano svincolate da partiti come nella nostra caratteristica ora da breve vedremo se è possibile anche fare ufficiale una riunione a Buia così che il poter coinvolgersi a Bassa che la media e l'alto Friuli naturalmente c'è il gruppo anche a Quadroico che ormai è consolidato che si è anche candidato alle elezioni passate quindi ormai si sta consolidando sempre più nel territorio la nostra presenza quasi possiamo dire per ulteriori informazioni cercate i gruppi su Facebook Movimento 5 Stelle a Cervignano Movimento 5 Stelle Tavagnacco Codroico Udine quindi basta fare una minima ricerca su Facebook e da lì si viene reindirizzato a proposito di web abbiamo messo online il sito del Movimento 5 Stelle di Udine si trova su www.fwg5stelle.it 5 scritto in numero nella sezione di Udine basta selezionare la nuova tendina e lì andremo a mettere i nostri comunicati stampi i nostri articoli per uno sito che nasce piano piano senza troppe pretese nel senso che non vuole essere un cambiamento radicale innanzitutto lo riempriamo di contributi poi inizieremo a aprire varie opzioni in base anche alla partecipazione e detto questo la riunione si è conclusa così quindi loro non molleranno mai? Noi nemmeno beh, buona serata a Grazie a tutti.